15 novembre, le vogliono addirittura consegne a 15, che per Roma ha detto il vecchio che troverà, e poi venerdì 16.3. Guarda, vengono su. Questo è il programma di Mievi Massimo che chiede la minazione per la novità. Stanno passando proprio sopra qua. Sono tantissimi. Stormo di Stormi. Stormi di Stormi. Grazie.